Eccomi, 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 buonasera, buonasera amici e amiche, rossoneri, ragazzuoli, ragazzuoli belle, buona serata di questo martedì 2 maggio, 2023 ore 19.02, buon mese di maggio, e vai ragazzuoli belli, il mese del mio compleanno, il mese del compleanno di tanti di noi nel mondo di noi del segno del toro. Allora ragazzuoli belli, io vi mando un abbraccio a tutti, lo ripeto, vi auguro buona serata, ti auguro buona giornata se mi vede il giorno dopo, cioè di mercoledì 3 maggio 2023, allora vi ricordo subito che noi ci vediamo domani per il video reaction dopo Milan Cremonese, per cui presumibilmente entro le ore 23.30 ci sarà il mio video per appunto il video reaction per la partita di domani, sarà una partita abbastanza delicata ragazzi, anche perché è propedeutica quella che è la partita che arriverà dopo contro la Lazio, e insomma non bisogna sottovalutare né uno né l'altro, né la Cremonese né la Lazio, vi dico subito la formazione per domani quale sarà, sarà Magnan in porta, ci sarà Magnan in porta, il modulo sempre di difesa 4 ci mancherebbe, Calabria, Calullo, C.A.O. Tio Hernandez, centrocampo Benassere, Vranx e verso la fase d'attacco praticamente Salesmaker, Cdk, Chardec e Terer, Braindiaz e Origi, questa è la situazione, poi vedremo ragazzi un attimino, se ci sarà qualche variazione dell'ultima ora, ma si pensa di no, vedremo come tutto andrà, insomma in un mondo che praticamente è impazzito dove c'è un Aurelio dell'Aurentis, prossimo vince lo squadetto su Napoli per la terza volta, praticamente oggi dichiara una cosa che secondo me metterà una pietra tombale su quello che sarà la prossima vittoria lo scudetto futuro, è una mia battuta, una mia illariosa battuta ci mancherebbe, per altri 30 anni al Napoli perché io dico sempre una cosa, bisogna anche parlare, ma chiacchierare troppo è sempre sbagliato, anche perché c'è qualcuno che sicuramente ai piani alti storce il naso, a proposito dei piani alti, io penso che quelli dei piani alti della Serie A e della FIGC siano contenti di come il campionato stia andando, visto e considerato che lo scorso weekend la Lazio, mentre stava per vincere contro l'Inter 1-0, magicamente tira in rima in barca e l'Inter vince, praticamente 3-1 e tutti quanti decantare questa Inter, incredibile, per cui un campionato serratissimo, Inter, Milan e Roma a pari punti, saranno tutti contenti perché la Serie A diventa attrattiva, la Serie A diventa attrattiva, dovranno gli sposi e tutto il resto, vedremo come andrà a finire perché come minimo questi dovranno essere capaci di portare a casa contratti vantaggiosi per rendere i club più ricchi, soprattutto quelli che stanno nell'alta classifica, vero? Il cinema prosegue, il cinema prosegue, saranno tutti contenti. Allora, eh sì, perché di questa lotta serrata sono tutti contenti. Allora, ragazzi, parliamoci molto chiaramente, oggi De Laurentiis ha dichiarato questo, è un mondo un po' pazzariello, come dicono Gio a Napoli, visto che adesso Napoli va di moda, un po' pazzariello, un po' pazzariello. De Laurentiis oggi dice questo, scolpisce Aurelio De Laurentiis queste parole nella roccia, è lo scudetto, quello del Napoli, dell'onestà, per cui praticamente De Laurentiis dice che tutti gli altri non sono onesti, grazie Aurelio De Laurentiis, peccato che mi sembra di capire che lei, lo scudetto numero 19, lo scudetto numero 19, prossimo scudetto, seconda stella, del Milan, praticamente lei l'anno scorso non l'ha proprio visto, cioè non ha nemmeno acceso la televisione o se andava allo stadio era da un'altra parte con la testa, è lo scudetto dell'onestà e senza irregolarità ne avremmo vinti altri. Praticamente le irregolarità De Laurentiis le ha subite solo lui col suo Napoli, tutti gli altri no, io penso al Milan, penso all'Inter, penso altri che hanno subito irregolarità, insomma solo lui le ha subite, solo lui le ha subite. Bravo Presidente De Laurentiis, io lo dico simpaticamente parlando, lo ripeto, occhio perché aver detto queste parole, possono mettere una pietra a tombale, ashkaramanzia, ashkaramanzia, per i prossimi scudetti per altri 30 anni, un abbraccio a tutti i tifosi napoletani. Allora ragazzi, ma d'altronde cosa vi aspettate? C'è un De Laurentiis che parla così, ormai oggi come oggi certi personaggi che sono nell'Olimpo pensano loro del potere, pensano di dire quello che vogliono, non ci mancherebbe, possono dire quello che vogliono, ma non vedete che oggi ognuno la spara grossa. Un po' come gli Stati Uniti che un po' di tempo fa, più di un anno fa, quando è iniziato il conflitto in Ucraina, hanno detto no, la Russia la roviniamo, la roviniamo subito. In un mese e mezzo, diceva quell'altro lì, quello lì che era il segretario del PD, quello lì, il professore universitario, come si chiama, Letta, diceva la Russia in un mese e mezzo la facciamo fallire, facciamo chiudere i rubinetti della banca centrale russa. Chiusi tutti, falliti tutti, invece, cos'è successo ieri? Praticamente in meno di due mesi è fallita la terza banca americana, la First Republic Bank, che non è niente di meno che uno dei cofondatori, dei sette cofondatori della Federal Reserve. Questo per farvi capire, un esempio per farvi capire, che il mondo ormai è un mondo di chiacchiere, 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 chiacchiere su chiacchiere. A proposito, avete visto, e adesso parto razza col video, i due protagonisti di questo video, e queste non sono chiacchiere, queste sono certezze, perché qui è già tutto programmato, io ragazzi ve lo dico subito, o ci sono mezze certezze, o certezze, mezze, più che mezze facciamo l'80% della certezza, o se no non ne parlo, e piuttosto, guarda, non faccio neanche manco un video, perché ho preso questa decisione. In copertina bello in gigante, vedete questo ragazzo di colore, se non mi ricordo male, di origini senegalesi, se non ricordo male, però lui è francese di passaporto e quant'altro, è Elay Wai, Elay Wai in grande, e poi in più in piccolo, in copertina, ho messo De Keteler, perché più in piccolo? Perché De Keteler è un essere, un giocatore del nostro Milan, in questo momento ancora sconosciuto per le sue doti, cioè doti sconosciute che nessuno ancora ha visto. Per cui speriamo di poterle vedere dal prossimo fine agosto 2023. E chi è questo Elay Wai? Elay Wai è un ragazzo classe 2003 di 20 anni ed è una punta centrale, all'occorrenza anche alla sinistra, alto 1,84 m, giocatore del Montpellier nella Ligan e praticamente vale 25 milioni. A proposito, non so se l'avete saputo, il Paese al Germain ha perso ancora, per cui, insomma, cosa devo dire a una certa persona? Dollaruma? Ecco, basta. Una promessa va sempre mantenuta. È importante mantenere le promesse, sennò che razza di uomini siamo, che razza di donne siete, se non si mantiene una promessa. E avendovi spiegato che è un alto 1,84 m, valutato dal Montpellier di 25 milioni di euro, la sempre solita triste notizia, che non è che ci siamo solo noi, ci sono anche gli altri. Però udite, udite, i concorrenti diretti per questo attaccante che sta facendo furore in Ligan, chi sono? E questo è un obiettivo serio del Milan, adesso vi dico perché. Il concorrente diretto è in Premier League, il Tottenham, per cui uno può pensare, questo Eli Wai va in Inghilterra per prendere più soldoni. Non ci scommetterei, perché in questo momento il Tottenham è una polveriera a cielo aperto. Praticamente tutti vogliono scappare dal Tottenham. Oggi è la notizia di, lo ripeto, oggi. Già in cinque hanno già detto che a fine stagione sgommano a gambe levate. Per cui Tottenham polveriera, namazza. Il Marsiglia, con tutto rispetto nei confronti del Marsiglia, il Milan è un attimo superiore del Marsiglia, e per cui ci sono questi due concorrenti e bisogna fare un po' in fretta. Ma sapete perché? Cioè è certa questa notizia che il Milan è interessato a questo ragazzo, non che l'ha già preso, che è interessato. Perché presto la notizia, e anche questa di oggi, lo ripeto, di oggi, quella del Tottenham e questa qua, il Milan ha fissato l'incontro con gli agenti di Eli Wai, di questo ragazzo che avete visto in copertina, lo ripeto. Perché lui in Ligan ha fatto soltanto 13 gol a 20 anni. 13 gol, 5 assist, in 29 partite. Poca roba. Cioè praticamente uguale a De Queteler. Allora, io lo dico chiaro e tondo. Qui stiamo parlando di un ragazzo che porta avanti la fase offensiva del Montpellier in Ligan. Un campionato che abbiamo già capito come il campionato francese, che sforna talenti. E che la Francia è vice campione del mondo. Non stiamo parlando del Belgio, di una squadra, il Bruges, che non è uno che porta avanti un reparto, ma è uno come De Queteler che arriva da un'altra funzione. Io spero che questo ragazzo, Charles de Queteler, l'anno prossimo, si riprenda, insomma, perché io ripeto, sono, ma io lo sapevo già, l'avevo già detto, chi mi segue da tempo lo sa, dai ragazzi, l'avevo già detto mesi e mesi fa. Questo ragazzo fino alla fine della stagione non lo vediamo e così sarà. Però domani Pioli gli dà fiducia contro la Cremonese, giusto? Quello che vedete qua sono i miei appunti, perché come ragazzi devo fare una scaletta, è un disastro. E passiamo ad un'altra notizia che è praticamente quella del sold out dei biglietti di Champions, praticamente per Milan-Inter e adesso gli interisti hanno risposto con Inter-Mina. È un sold out, poi più avanti verranno pubblicati gli incassi ufficiali, quali saranno. Vabbè, io sono contentissimo ragazzi, non vedo l'ora di vedere questa partita, per cui cosa volete che vi dica, cioè nel senso di dire. Ma ieri, udite udite, ha parlato il nostro presidente Paolo Scaroni. A proposito, l'11 maggio ci sarà un'assemblea straordinaria all'interno del nostro Milan a casa Milan per nominare amministratore delegato, adesso vediamo se sarà confermata la notizia, niente che meno che il presidente del New York, Yankees. Ma voi forse non avete ancora capito di cosa ci stiamo trasformando noi. Jerry Cardinale, va bene, ok, è il proprietario, Red Bull e tutto il resto, ma in realtà è chi c'è sotto che sono i proprietari del Milan. E guarda caso chi ce li sarà dentro adesso a breve nel Milan, la squadra di baseball americano New York Yankees. Allora questa non è quella che vi tiro in testa voi se non fate i bravi, perché se non fate i bravi questa qua, guardate, fate i bravi, fate i bravi, che poi la devo far vedere così perché se no... Questa non è quella che lo tiro a chi non fa il bravo, no, a quello no, ci mancherebbe, questa qua la uso... Sì, vabbè, sì, vabbè, chi non fa il bravo questa qua forse se la meriterebbe anche. Però la squadra, questa non è di York Yankees, è di Regent, praticamente la squadra di football americano, cioè il sesto club, cioè sì, di football americano, di baseball americano, scusate, il sesto club sportivo più ricco al mondo, praticamente adesso si prende un pezzo a tutti gli effetti di Milan. In realtà, a mio modo di vedere, nella mia fantasiosa mente con un cricetto magnifico, mi dice che praticamente piano piano verranno svelati quelli che sono i veri proprietari del Milan ed è uno spettacolo, perché è più vantaggioso, è più vantaggioso, non so come metterla, se metterla così, no, me la metto così, dai, me la metto così. È più vantaggioso praticamente investire nel calcio che in altre cose, ve lo dico sinceramente. E praticamente, questa è una notizia clamorosa, sta sembra straordinaria, l'11 maggio, poi ve ne parlerò, ne parleremo, guarda caso il giorno dopo la grande partita che ci attende contro l'Inter per l'andata semifinale di Champions League. Oggi mi trovo d'accordo con Sabatini, l'ex dirigente della Roma, colui che è il mentore del Deus Ex Machina di Massara, che oggi Sabatini ha detto, chi passerà questo turno di semifinale potrà vincere la Champions League, io sono d'accordo. Arrivo, scusate, che dovevo mettere giù la mazza da baseball e praticamente Scaroni ieri ci ha dato una bella notizia, l'avete letto nel titolo. Praticamente i ricavi del mio sono sensibilmente in aumento, ma adesso io vi faccio una mia riflessione breve che vi dico come andrà a finire. Scaroni ci ha detto che praticamente il fatturato aumenterà e supererà i 350 milioni di euro, vi leggo le sue parole e poi vi saluto. Possiamo essere molto soddisfatti dei risultati sportivi ma anche dei risultati economici, Paolo Scaroni, che cominciano a darci anche soddisfazioni, sono dell'idea che se non si ottengono risultati economici è difficile poi raggiungere quelli sportivi. L'obiettivo di quest'anno è di avere un bilancio inattivo, ci ha aumentato molto il fatturato, supereremo i 350 milioni di euro, i nostri ricavi crescono, spero proprio sia l'anno in cui le nostre cifre saranno positive. L'ultima volta che il Milan ha avuto un risultato positivo, è vero, è stato il 2016 Scaroni, veramente molti, molti anni fa. Ragazzi, la verità, l'ultimo anno che il Milan ha avuto un ricavo positivo, un ricavo vero positivo, è stato il 2006. Chiaro? Adesso vi faccio una previsione, il Milan raggiungerà i 370 milioni di euro di fatturato entro il 31 dicembre 2023. Dall'anno prossimo, dall'anno prossimo, noi saremo già inattivo. Siamo l'unico grande club di Italia con questo risultato e con quello che sarà la trasformazione dell'assetto societario, cioè che verranno fuori quelli che sono i veri investitori del Milan, noi vedremo solo uno spettacolo incommensurabile. Roba che tutti gli altri della Serie A rimarranno lì impalediti, ci sarà una persona sicuramente che si accanerà, io non sono abbastanza convinto, commisso, 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 beh forse anche dell'Oriente stesso, vedremo. Ragazzi io vi mando un abbraccio, forza mila sempre e comunque ovunque, noi ci vediamo domani per il video reaction dopo la Cremonese. Ragazzi, eh sì, eh sì, l'avete già capito. Ciao!